Ha firmato tante cose prima di andare via, quindi adesso vedremo, ma soprattutto le vedrà il nuovo presidente, il nuovo amministratore delegato, non spetta a me, però giustamente visto che sono stato informato di questi atti firmati un minuto prima delle dimissioni, volevo sapere semplicemente cosa fossero, come è giusto sapere. Il processo di nomina del nuovo presidente? No, ho appena chiesto, venerdì, domani alle 12 scade la manifestazione di interesse, attenderò che l'ufficio dello sport mi invii tutte le candidature dopo aver fatto una rapida verifica sul fatto che tutte le candidature abbiano i requisiti richiesti dalla manifestazione di interesse, che poi fondamentalmente sono i requisiti che prevede la legge, non è che ci siamo inventati chissà cosa, e nel momento in cui mi verrà trasferita la lista farò tutta una serie di valutazioni e sicuramente entro la prossima settimana invierò la mia proposta alle commissioni di cultura di Camera e Senato come prevede la legge, anzi spero di farlo proprio a inizio settimana.